Quasi una creatura vivente, in movimento, seppur lento, che da quattro giorni è diventata parte del panorama londinese, ordinata, composta, impressionante, se inquadrata dal cielo guardando giù, verso il Tamigi. The Q, la mastodontica coda di sudditi che per ore, si è arrivati fino a 24, hanno aspettato il loro turno per entrare nella camera ardente della sovrana a Westminster Hall. Sono venuta qui con i miei colleghi, spiega questa donna, è bello, mentre aspettiamo parliamo tra noi, condividiamo questa esperienza che ci unisce, come popolo. Almeno 500.000 persone, finora, giorno e notte, fino all'ultimo, con oggi si chiude l'accesso, l'attesa pur ridotta è ancora tale che gli ultimi arrivati rischierebbero di trovare i cancelli sbarrati. Significa sentirsi parte di qualcosa di unico, di un momento storico che in qualche modo solo così, vedendola diventa reale, spiega questo ragazzo. C'è chi porta i figli, anche piccoli, chi viene con gli amici, giovani e meno giovani, tutti cresciuti sapendola sempre lì, al suo posto. Per me è stato come un pellegrinaggio, davvero una giornata unica. L'attesa è lunga e stancante, non è per tutti, la vedremo, dice questa donna e poi andremo a riposarci. L'ultimo giorno e l'ultima notte, alle sei e mezza di domani mattina la barra reale verrà spostata in Westminster Abbey. Inizieranno i funerali e di The Cue resteranno solo queste immagini, testimonianza dell'amore di un popolo per la sua regina.